Lo aveva detto e ha mantenuto la sua promessa. Zdenek Zeman è tornato alla Roma. Dopo 13 anni il tecnico boemo fresco di promozione in Serie A alla guida del Pescara riprende la guida dei giallorossi fortemente voluto dalla società. Con la flemma che lo contraddistingue il boemo parte smentendo le voci secondo cui preferirebbe lavorare con i giovani. Io ha detto punto su gente con voglia di imparare e gran voglia di fare. Non entra però nel merito delle scelte tecniche e neppure sul ruolo dei singoli giocatori, compreso quello di Totti che dice è un tesserato e lo gestirò come gli altri. Per il suo ritorno i tifosi non gli hanno fatto mancare una degna accoglienza, speranzosi come sono, che possa far tornare grande la Roma. Sono qua perché secondo me Zdenek Zeman è la natura e veramente può riportare i tifosi alla passione. Amare un po' quest'anno ce l'ha tolto perché se vediamo qua siamo tutti qui per Zdenek Zeman, per rivedere Zdenek Zeman in campo, con Zdenek Zeman finalmente si trova il nuovo assetto e qualche difensore in più non guasta.